Dal salone della scuola dell'infanzia ci spostiamo a vedere una delle aule. Qui ci sono gli scaffali, entriamo in un'aula, vediamo tanti tavolini con le piccole seggiole, sempre alle pareti standardi colorati per simboleggiare i cartelloni. Qui ci sono i tavoli dove i bambini mangiano e questi invece sono i tavoli dove i bambini fanno delle attività. Andiamo a vedere la cucina, ecco questa è la cucina nella quale le cuoche preparano il pranzo, ci dirigiamo fuori verso il cortile. Usciamo. Qui intanto vediamo il campo da calcio dove i bambini della scuola primaria giocano. In volo ci dirigiamo nel cortile invece della scuola dell'infanzia e vediamo innanzitutto i dondoli, più in là uno scivolo, un castello e infine un bellissimo bruco.